Se per la costruzione dei 400 loculi interamente finanziati dal Comune per una somma vicina ai 500.000 euro e che saranno utilizzati per la gestione dell'ordinario e di eventuali emergenze non sembrano esserci problemi, lo stesso non può dirsi per gli altri 3.000 loculi che dovrebbero essere realizzati attraverso un project financing. La data di inizio dei lavori infatti è al di là dal venire, anche e soprattutto perché la vicenda è all'attenzione dei tribunali amministrativi. I progetti in ballo erano due, possiamo chiamarli delle società A e B e a titolo di esempio gli uffici di Palazzo del Pincio avevano scelto il secondo. Ma l'altro promotore ha presentato ricorso prima al TAR e adesso al Consiglio di Stato e la controversia sembra destinata comunque a non avere tempi brevi. Sarebbero diverse infatti le anomalie denunciate dai ricorrenti nel loro ricorso alla giustizia amministrativa. Non solo, sarebbe anche emerso che esisterebbero problemi di copyright rispetto al progetto presentato agli uffici comunali. In sostanza la società A sosterrebbe che l'elaborato tecnico che accompagna la proposta formulata dai concorrenti è stranamente identico a quello che lei aveva prodotto in precedenza. Ma c'è anche dell'altro. Proprio alla luce di alcune presunte anomalie nelle procedure seguite, il consigliere comunale del buon governo Vittorio Petrelli ha infatti presentato nelle scorse settimane una richiesta al sindaco, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale, al dirigente del servizio e al responsabile del procedimento affinché si valuti l'opportunità di sospendere la procedura di gara al fine di evitare un potenziale danno erariale. Petrelli chiede anche di ritirare, agendo in autotutela, ogni atto finora assunto. Secondo Petrelli, tra l'altro, la scelta sarebbe stata effettuata dai soli uffici, mentre avrebbe dovuto essere di competenza del consiglio comunale.